Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, eccoci qui. Anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di fantacalcio. Si torna in campo oggi alle ore 18.30 come di consueto oggi il video dove andremo a vedere partita per partita consigliati, sconsiliati e scommesse da schierare al fantacalcio. Vi ricordo che oggi pomeriggio come sempre ci saranno altre due live alle 15.30, ci vedremo sulla piattaforma viola, canale Il Profeta Twitch e a seguire qui alle 16.30 su YouTube. Per l'ultima live, live aperta a tutti dove gli abbonati avranno precedenza ma poi come sempre cercherò di rispondere a più domande possibili anche di tutti gli altri. Adesso ci andiamo a spostare su Fantalab ma come sempre prima di continuare mi raccomando se non l'avete ancora fatto like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis. Gratis come scaricare l'app di OneFootball grazie alla quale possiamo restare sempre aggiornati sia nel momento degli scambi sia nel momento delle formazioni sia in generale in tutti i momenti della nostra stragione del fantacalcio. Abbiamo infatti la possibilità di personalizzare la dashboard e ricevere esclusivamente le notifiche che ci interessano davvero e abbiamo anche la possibilità di consultare le schede giocatore, le statistiche e più in generale tutti i dati dei nomi che ci interessano appunto al fantacalcio. Trovate il link qui sotto in descrizione, link ovviamente gratuito. Vi ricordo che ieri è uscito il video delle due top 11, underdog scommesse, quella delle certezze disponibile anch'essa per tutti qui sotto su Stadeo. Scaricate l'app gratis, entrate nel club Il Profeta e lì troverete la top 11 aggiornata tra l'altro in tempo reale. Questa è l'altra bella novità perché ad esempio io ieri avevo messo Dybala nella top 11 certezze, ora sappiamo che Dybala ieri sera si è fatto male quindi non giocherà, è già stato sostituito. Trovate gli 11 nomi appunto su Stadeo, il link è qui sotto. Detto questo andiamo su Fantalab e partiamo subito dalla prima partita di questa trentesima giornata tra Cremonese ed Empoli. Eccola qui ragazzi, Cremonese ed Empoli, come sempre vi ricordo che gli indici di schierabilità che vedete in questo video sono gli indici dell'algoritmo di Fantalab, mentre i miei li trovate comunque su Fantalab ma per vederli serve l'abbonamento premium su Fantalab e almeno un abbonamento su uno dei miei due canali, dal livello scommessa in su su YouTube oppure quello sulla piattaforma Viola, che ricordo essere gratis, basta avere un account Amazon Prime. Allora ragazzi, Cremonese e Empoli, cosa dire? Ma io come ho già detto nel video di un paio di giorni fa, in casa Empoli vedo bene Baldanzi, vedo bene Caputo, per questo motivo li consiglio, nella Cremonese al di là di Sernico, l'ha scontato dopo il gol della scorsa giornata contro la Samp, io andrei a consigliare Valeri. Sconsigliato Ferrari è un po' più in generale la difesa della Cremonese che a testimonianza di quanto detto anche la settimana scorsa si dimostra troppo fragile, lo dimostrano anche i due gol presi a Genova, tra le scommesse un po' più affascinanti invece Parisi in casa Empoli, altamente schierabile a livello di modificatore ma anche a livello di potenzialità di bonus e poi Dessers, che tra gli attaccanti della Cremonese al momento resta sicuramente il più pericoloso. Passiamo quindi a Spezia Lazio, in casa Spezia ovviamente consigliato un Zola da schierare sempre e comunque, in casa Lazio tanti giocatori consigliati, prendo Zaccagni e Mobile ma ovviamente anche Luiz Alberto, Milinkovic Savic, Felipe Anderson, sapete che sono tutti nomi ormai da schierare pressoché sempre, sconsigliato Nicolau e anche qui un po' più in generale i centrali dello Spezia, tra le scommesse interessanti Casale che insieme a Romagnoli si sta confermando un difensore molto affidabile. Per quanto riguarda Bologna-Milan, come già detto io mi aspetto una partita complessa per il Milan, che avrà sicuramente il 70-80% dell'attenzione già rivolta alla partita contro il Napoli. Il Bologna è in un bel momento di forma, sta andando molto bene, ha delle assenze importanti, prima tra tutta quelle di Orsolini squalificato, però comunque credo che abbia le armi per poter mettere in difficoltà un Milan che potrebbe essere, ripeto, disattento e in parte anche stanco. Al di là di posh scontato, attenzione a Kiriakopoulos e attenzione anche a Ferguson. Theo l'ho visto molto bene, credo verrà schierato nuovamente, almeno per uno spezzone. Nessun giocatore particolarmente sconsigliato in entrambe le squadre, perché comunque il Milan è una squadra che non dovrebbe prendere un'imbarcata a Bologna, così come il Bologna non dovrebbe prendere un'imbarcata con il Milan. Dovrebbe essere una partita abbastanza equilibrata, non mi meraviglierai se il Bologna uscisse da questo match con uno o tre punti, però in ottica fantacalcio non vedo tantissimi giocatori su cui puntare. Lo stesso Leao è ovvio che se ce l'abbiamo lo schieriamo, però attenzione perché potrebbe giocare solamente una parte di partita, non è detto che sarà titolare. Stessa cosa si può dire dei giocatori del Napoli, con qualche eccezione, nel senso che sappiamo che ad esempio Kim, consigliato, e Zambo Anghissa giocheranno al 100%, in quanto squalificati poi nella gara di ritorno di Champions. Sappiamo anche che a centrocampo Spalletti ha sì delle alternative, ma poi non così tante, perché ad esempio un Don Belè, che poteva essere un uomo utile per far rifiatare qualcuno, è squalificato. Quindi mi aspetto Raspadori di davanti, motivo per cui ve lo vado a mettere nelle scommesse. Varaschelia penso sarà un Varaschelia part-time, non credo farà 90 minuti. Occhio anche al discorso difesa, qualcuno potrebbe rifiatare. Insomma, mi aspetto tanto turnover nel Napoli, quindi resta sì favorito, ma in ottica fantacalcio, se abbiamo dei giocatori del Napoli, da schierare assolutamente con copertura assicurata al 100%. Tra gli sconsigliati del Verona, Davidovic e in particolare i difensori, che nelle ultime giornate non hanno mai dato segnali di solidità. Yen è il meno peggio degli altri, secondo me. Il Verona dovrà in qualche modo mettere in campo delle motivazioni superiori a quelle del Napoli, però mi sembra una partita dove il divario tecnico, a differenza, soprattutto a livello di momento di forma, il divario tra Napoli e Verona è maggiore rispetto a quello, ad esempio, tra Bologna e Milan, a livello di stato di forma. Quindi comunque il Napoli in qualche modo se la può cavare, ecco, contro il Verona. Attenzione però, ripeto, ad avere delle coperture adatte ai giocatori per tenopei. Passiamo alla partita dell'Inter, che forse tra le tre italiane potrebbe essere quella un po' più tranquilla, si può dire. Comunque un 2-0 in trasferta è un risultato pesante, a meno di cataclismi nella gara di ritorno, l'Inter tra le tre, Inter-Napoli e Milan, è quella che potrebbe stare un po' più tranquilla. Potrebbe, perché comunque in Champions può sempre succedere di tutto. Consigliati Gossens e Lautaro. Occhio anche a Dzeko, che parte probabilmente dalla panchina, ma a gare in corso potrebbe anche essere importante. Carlos Augusto, a mio parere, si schiera sempre anche a San Siro. Stessa cosa non si può dire dei difensori centrali del Monza. Marie e anche Marlon sono due nomi che non mi danno garanzie a San Siro. Nell'Inter, occhio al discorso esterno, perché al di là di Gossens abbiamo visto anche un ottimo Danfries in Champions. Bisognerà capire che partita sarà. Danfries il meglio di sé lo dà quando ha spazio davanti, e non nelle partite bloccate. Non mi meraviglierei se Inzaghi, in realtà, rispetto all'undici qui proposto, facesse più turnover del previsto. Quindi anche qui, ragazzi, il discorso delle coperture diventa assolutamente rilevante. Passiamo poi a Lecce-Samp. Lecce favorito, consigliati tra tutti Strefezza e Baschirotto. Strefezza ha lasciato anche la scorsa a riposo proprio per questa partita. Sconsigliato Rincon tra i centrocampisti della Samp, perché è quello che ha meno bonus potenziali tra le gambe. Tra le scommesse in casa Lecce avrei potuto dirvi González, già consigliato in top 11. Vi aggiungo nuovamente Sissé, che qui l'algoritmo va un po' a sfavorire, però io credo che, al di là di Strefezza, sia di Francesco, sia Sissé e lo stesso Colombo, in questa partita siano comunque schierabili. Il Lecce ha bisogno di punti, arriva da cinque risultati negativi, cinque sconfitte consecutive. La Samp ormai io non so quanto ci creda ancora, quindi io vedo il Lecce leggermente avanti. Passiamo poi a Torino-Salernitana, una partita che, se non si sblocca subito, potrebbe anche regalare pochi bonus, però comunque nel Toro vedo bene Miranciuk, vedo bene Sanabria. Nella Salernitana la garanzia si chiama DIA. La Salernitana arriva da cinque pareggi consecutivi, a dimostrazione che qualcosa manca, ma allo stesso tempo ha ritrovato una determinata continuità. Daniliuk e in generale la difesa della Salernitana nei centrali non è una difesa da fantacalcio, portano pochi bonus e spesso anche voti negativi. Tra le scommesse in casa Toro, Vlasic lo stiamo aspettando da un po' di tempo, che sia la volta buona, vedremo. Passiamo poi a Sassuolo-Juve, occhio al discorso Juve, una Juve che potrebbe essere in alcuni uomini un po' stanca, motivo per cui magari mi aspetto qualcosa in più da chi non ha giocato dall'inizio, ad esempio un Dusan Vlaovic, Berardi nel Sassuolo si può schierare e come, stessa cosa si può dire di Kostic, che comunque è uno dei più in forma in casa Juve. Sconsigliato Ruantresol, di giocatore che ne combina sempre una più del diavolo, quindi non mi dà assolutamente modo di andarlo né a consigliare, ma neanche proprio di non sconsigliarlo, perché per me lo trovo abbastanza inadeguato al contesto Serie A. Tra le scommesse, se si può dire scommessa, la Oriente si può dire scommessa perché comunque di fronte c'è la Juve, ma io credo che un giocatore con la freschezza di la Oriente anche in questo tipo di partite può sicuramente risultare decisivo. Mi comincio un po' meno, invece Pinamonti. Roma Udinese, come previsto, già nel video di ieri bisognava attendere per parlare di Roma, perché comunque c'era una partita di mezzo e purtroppo per la Roma e per i suoi tifosi la partita di ieri sera al di là della sconfitta ha portato delle defezioni importanti perché comunque Di Bala almeno la prossima la salterà, vedremo cosa si è fatto all'aduttore, l'ussazione alla spalla per Abram, quindi io qui vado a dire al Sharawi perché tra quelli lì davanti è quello che vi informa. Se avete Pellegrini si può schierare però occhio perché potrebbe anche aver perso i rigori dopo l'ennesimo errore dal dischetto ieri, Wijnaldum resta una bella scommessa, Pereira resta una bella scommessa, rigorista in casa Udinese, questa potrebbe essere anche una partita da under. Attenzione ad avere troppi giocatori delle due squadre perché ripeto potrebbe anche essere una partita a basso tasso di bonus e occhio anche a lasciare fuori Udoji perché io vedo molti che volevano lasciare addirittura in tribuna Udoji per il discorso incidente ma se non lo fanno i pozzo perché dovete farlo voi? Udoji io credo che gli verrà data una multa però a questo punto dovrebbe essere in campo. Udoji al fantacalcio si schiera sempre e comunque. Chiudiamo con Fiorentina-Atalanta partita che invece potrebbe regalare qualche bonus in più. Nell'Atalanta mi fido di Oilund nella Fiorentina mi fido di Biraghi e Cabral da monitorare le condizioni di Nico González non si sa se giocherà dall'inizio sconsigliato Jim City tra i difensori dell'Atalanta è quello che vedo meno in forma rispetto a Scalvini e Toloi che torna dalla squalifica tra le scommesse in casa Viola ne avevo già parlato ieri e lo ripeto allora a maggior voce dopo anche il gol di ieri sera io credo che nel ruolo che ricopre possa essere uno dei giocatori più pericolosi della squadra di italiano. Ragazzi questi erano i nomi consigliati, sconsigliati e scommesse ovviamente ragazzi non perdetevi la top 11 certezze che trovate su Stadeo gratis l'app è qui sotto la scaricata è entrata nel club lì troverete il progetto esperti quindi un sacco di esperti per ogni squadra che vi risponderanno a tutte le domande non scrivete in direct su Instagram non lo uso più da mesi ormai la chat era intasata con 3-400 messaggi c'è apposta Stadeo app gratuita rispondiamo a tutti vi aspettiamo e trovate anche la top 11 certezze in esclusiva oltre a tutte le chat room e tutto il resto io vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento alle ore 15.30 sulla piattaforma Viola e a seguire alle 16.30 con la live aperta a tutti ma con precedenza li abbonati qui su YouTube io vi saluto vi ringrazio ciao a tutti e a più tardi ciao 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 Grazie a tutti.